Quante volte vi è capitato di arrivare a lezione e aver dimenticato la penna? Da un'idea, a volte, può prendere vita un progetto, come quello che hanno realizzato Gianluca, Tommaso, Luca e Vincenzo, quattro studenti della Facoltà di Ingegneria di Roma 3, che hanno vinto il bando del Comune di Roma, Giovani Idee di Impresa per il Bene Comune. Nasce così Ecomat, il primo distributore automatico di prodotti di cancelleria. Il primo prototipo è già stato installato proprio lungo un corridoio della Facoltà dei Ragazzi. L'idea ci è avvenuta, diciamo, al liceo e l'idea consiste nella distribuzione automatica di cancelleria. Quindi per cancelleria intendo matite, penne, guaderni e quant'altro. Il problema, diciamo, sorge nel momento in cui uno studente si trova senza guaderno, senza penna, a quel punto ha la necessità di comprare, attraverso questo distributore, prodotti di cancelleria. L'idea, diciamo, commerciale è questa qui, reale. Poi dopo c'è stata un'evoluzione nel tempo perché abbiamo messo insieme un business plan e adesso siamo partiti con il nostro start-up. Abbiamo lavorato, abbiamo messo a parte dei soldi e siamo riusciti a partire con cinque distributori. Il progetto parte grazie ad un bando a cui avete risposto. Che bando è? Dove l'avete trovato? Allora, il bando è un bando comunale, giovane idee di impresa per il comune. Abbiamo partecipato al bando, da lì è nata l'idea, nel senso l'abbiamo formalizzata, quindi abbiamo resa un business plan. A quel punto siamo potuti partire noi con un'idea concreta, quindi dal punto di vista economico vincente. I primi prototipi sono già stati realizzati e sono stati posizionati nei vari punti dell'Università di Roma 3? Sì, allora, il primo è stato proprio posizionato qui a Ingegneria, un altro in un liceo, al liceo Mamiani, e poi adesso abbiamo in futuro il progetto di partire su economia, su giurisprudenza e su un altro liceo, Lucrezio Caro, che sta a Roma Nord. L'innovazione sposa l'attenzione alle tematiche ambientali, scegliendo prodotti riciclati o comunque ecosostenibili e sensibilizzando al riciclo. Un'idea che emerge chiara già dal nome e dallo slogan scelti, Ecomat, ecologico ed economico. Sin da subito vogliamo porre molta attenzione sul tema del riuso, sul tema del riciclo e il tema dell'ecologico. Abbiamo fatto una scelta che si basa su un motto, su una filosofia, appunto quella di insegna e comincia a riciclare. Noi abbiamo scelto una gamma di prodotti che comunque sia sono sia in parte riciclati e oppure sono prodotti da aziende, appunto i leader, i marchi del settore, che rispettano le più importanti normative internazionali in termini di produzione ambientale. Ho visto accanto al distributore anche dei contenitori per la raccolta della carta e della plastica, quindi non solo l'incentivo a usare prodotti ecologici, ma anche a insegnare il riciclaggio ai ragazzi. Esattamente, noi attraverso quei contenitori vogliamo cercare appunto di dare uno stimolo, dare un incentivo a riciclare quelli che sono appunto componenti in plastica, rifiuti in plastica o rifiuti in carta. Inizialmente questi rifiuti verranno smaltiti in una maniera tradizionale, appunto attraverso i cassonetti o attraverso lama, sempre appunto rispettando il ricorso di raccolta differenziata. Nel più breve periodo dovremo cercare di veicolare quindi questi prodotti, questi scarti attraverso il riuso e la produzione di piccoli oggetti, di installazioni quale sedi oppure quant'altro. Il motto di Ecomat è ecologico e economico. Proprio dal punto di vista economico stiamo lavorando per abbassare i prezzi, siamo partiti uno dei prezzi concorrenziali, però il fatto di vivere proprio all'interno dell'università sia come studenti che come imprenditori appunto ci dà l'opportunità di lavorare direttamente sui prezzi, sentire i pareri degli studenti. Nell'ottica di abbassare i prezzi stiamo lavorando su un blisteraggio autonomo, quindi produrre da soli dei blister che ci consentono di abbattere i costi di fornitura e quindi di rendere allo studente un servizio ancora più economico. Per ora avete posizionato i prodotti all'interno della facoltà di ingegneria, quindi avete avuto un grande supporto da parte del preside e della facoltà. Come si svilupperà poi il progetto? Ecco, innanzitutto ti ringrazio della domanda, ci tengo a ringraziare il preside e tutta la segreteria ingegneria civile per la disponibilità e l'efficienza dimostrata. Stiamo lavorando appunto per espandere questo servizio alle altre facoltà di Roma 3, innanzitutto economia e lettere, ma abbiamo intenzione di appunto muoverci anche sulle altre principali università di Roma. E poi va bene, speriamo bene, ma io non farei programmi adesso. Grazie.